In piena vacanza per i cittadini fanesi la giunta comunale non perde l'occasione per svolgere, tra virgolette, di nascosto un atto, diciamo, secondo noi assolutamente fuori da ogni tipo di regolamento, che è quello di dare 60.000 euro a fine anno a molte associazioni fanesi con l'escamotage dei contributi straordinari. Peccato che queste attività di straordinario non abbiano niente perché sono state ampiamente previste, mentre il regolamento, oltretutto approvato dalla stessa giunta, dice che questi soldi devono essere dati per attività non programmabili e non programmate entro giugno del 2017. Ecco, questo è un modo classico della giunta già da anni, ormai l'abbiamo messo in evidenza, per dare delle mance, se vogliamo, alle associazioni, non che le associazioni non debbano avere dei contributi, ma sarebbe bello che lo avessero in modo del tutto meritorio e soprattutto seguendo i regolamenti stessi del Comune, in modo che ci sia la più totale imparzialità. Peccato oltretutto che oltre a questa non parzialità sia presente anche oltre al danno la beffa, perché ad esempio per il Festival Internazionale del Cinema Giovani che si è svolto verso settembre nella nostra città, l'assessore Marchegiani aveva detto che per il Comune tutto ciò sarebbe stato a costo zero. In effetti, forse per i primi giorni, ma già ad ottobre è stata deliberata in giunta un contributo per il patrocinio di 560 euro per assicurare l'apporto tecnico e le maschere nella Sala Verdi, un mancato introito anche per l'affitto della Sala Verdi che non è stato fatto pagare e quindi diciamo già praticamente quasi a 1.000 euro di contributi in più, addirittura a fine dicembre, come abbiamo accennato, per l'associazione che ha organizzato questa manifestazione sono stati dati ben 2.000 euro. Ecco, se questo è il modo di gestire i soldi pubblici e di valorizzare tutte le associazioni fanesi noi pensiamo che questo sia il modo più sbagliato. Noi vorremmo che invece le associazioni fanesi venissero appunto trattate non chi è in serie A o chi è in serie B secondo il sindaco o secondo la giunta, ma appunto, come dicevo, nel modo più meritevole possibile e nel rispetto totale dei regolamenti.